Buongiorno, benvenuti a tutti quanti voi, questa è la segna stampa di oggi, 13 novembre martedì grazie a tutti quanti voi che avete seguito ieri sera Quarta Repubblica. Su Quarta Repubblica ieri nella prima parte abbiamo parlato di un concetto che oggi un po' c'è sui giornali forse Alessandro Gnocchi è quello che lo coglie meglio e cioè che la piazza TAV, Sea TAV di Torino è stata vista con un po' di idea un po' l'ha detto ieri Luca Tedese ma l'ha scritto Beppe Grillo sul suo blog è stata vista come una piazza dei Borghesucci e come tali non si devono tanto considerare oggi fantastico ovviamente il Fatto Quotidiano, il giornale del Movimento 5 Stelle che dice aspettate che l'ho letto da qualche parte ve lo voglio leggere ecco c'è un richiamino a prima pagina del Fatto Quotidiano in cui dice dietro quella piazza c'era Confindustria e Berlusconi anche se fosse dietro la piazza della CGL appunto contro Berlusconi chi c'era? la CGL, in ogni piazza c'è qualche organizzatore sempre che sia vero che poi ci fosse Berlusconi e la Confindustria dentro quella piazza che mi sembrava o una piazza di Borghesucci o una piazza di Confindustria e se Confindustria e Berlusconi vengono dati per morti riescono ancora a fare queste piazze e a mobilitare questa gente insomma oggi di questo se ne occupa Gnocchi che la prende ovviamente non sul colore politico della piazza ma sul fatto che si ha questa specie di sapore amaro nei confronti della Borghesia che non si riesce a capire che male abbia fatto ricordo bene quando la Borghesia raccontata da Ricossa scusatemi veniva considerata sostanzialmente una schifezza tutta italiana per quanto riguarda invece le questioni diciamo di finanza pubblica c'è da registrare da parte le letterine la Corriere della Sera e tanti altri puntano sul fatto che le pensioni a 400 porteranno a una riduzione del assegno di pensione che va dal 5 al 34% lo scrive l'ufficio parlamentare di bilancio non è una novità non è una novità lo sapevamo tutti la cosa è molto semplice e la capisce anche un bambino senza che ne facciamo una grande polemica se tu vai a pensione a 62 anni invece che a 67 che è il parametro che oggi dà la legge Fornero vuol dire che paghi 5 anni di contributi previdenziali in meno pagando 5 anni di contributi previdenziali in meno è del tutto evidente che siccome oggi la pensione per la gran parte è fatta dai contributi che tu hai versato e che ti vengono poi restituiti secondo la tua aspettativa di vita è normale che avrai una pensione e un assegno ridotto il punto interessante oggi mi sembra Andrea Ducci oggi sul Corriere notava è come lo stesso sottosegretario al lavoro Durigon e Leghista dica che non tutti accetteranno questa quota 100 il motivo è molto semplice non solo per la riduzione dell'assegno che dovranno subire tantissime altre variabili per esempio se ti piace il lavoro se stai bene se sei in crescita perché mollarlo ma soprattutto il motivo fondamentale è che siccome e ve la dico semplice semplice che siccome andranno in pensione persone in grado di ovviamente di continuare a lavorare ancora per anni e non gli sarà permesso cumulare la pensione a una collaborazione a un altro stipendio al nero sì ma non in bianco beh molte persone rinunceranno alla pensione perché avranno il loro reddito molto ridotto e non potranno continuare a lavorare solite tensioni Salvini e Di Maio è quasi noioso raccontarlo ieri qual è il motivo della tensione? sarebbe secondo tutti i retroscenisti dei grandi giornali italiani il fatto che sia stato fatto un vertice con Conte su questioni economiche Giorgetti, Salvini e Di Maio rimasto nel suo ufficio per fortuna che nel suo ufficio vuole rimanere anche il ministro dei trasporti che si chiama Toninelli in un'intervista oggi spiega ma che ho il cavolo che me ne vado via io resto qua e anzi incontro un sacco di gente che mi dice di rimanere qua e al ministero vorrei conoscere questa gente nel frattempo anche qui è fantastico bisogna leggere il fatto quotidiano come primo giornale in Italia per capire la linea che prenderà il governo Cote ovviamente 5 stelle beh il che cosa dice ciao Nadia enjoy the quarta repubblica last night tutto in inglese fantastico allora oggi in Financial Times c'è una bella analisi dei mari dell'Italia dice Massimo B ce ne sono tanti di pezzi anche questo da segnalare a ragione Massimo che ci scrive immagino da Londra la cosa molto divertente è come il fatto quotidiano tratta l'incontro che c'è stato ieri tra il ministro francese dei trasporti e gli omologhi italiani TAV tre mesi di stop dalla Francia cazzata una stupidaggile non è così la Francia come si legge in tutti i resoconti di oggi ha detto fatevi pure le vostre analisi costi-benefici ma non più di tre mesi e soprattutto a condizione che non si perdano i finanziamenti europei cioè i francesi non vogliono perdere i finanziamenti europei con un'economia che cresce più della nostra con una situazione di debito pubblico migliore della nostra con una situazione diciamo di infrastrutture minore delle nostre e noi facciamo i fenomeni cioè che sulla TAV facciamo i fenomeni cioè chi se ne frega se perdiamo i finanziamenti europei no? e poi dopo per gridare contro l'Europa da una parte gli facciamo un mazzo così dall'altra facciamo analisi costi-benefici che sono vent'anni che abbiamo fatto dall'altra arrivano i francesi e ci dicono fatela 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 dall'altra in tutto questo contesto invece i francesi dicono toc toc italiani sarete anche dei miliardari dei fenomeni ma almeno noi i soldi europei non li vogliamo perdere geni non i francesi noi ovviamente che ci facciamo dare l'ultimatum dei francesi sulla questione della TAV una cosa pazzesca un'altra grande vicenda diciamo di infrastrutture italiane riguarda la team oggi solo 24 ore ce l'aveva meglio degli altri la storia è molto semplice la faccio semplicissima in team ci sono due azionisti uno è i francesi di Vivondi che volevano mettere i contenuti loro insieme alla rete team l'altra è un fondo speculativo perché questo è che si chiama Elliot che ha capito che in team stavano questi francesi facendo un casino pazzesco trovano l'opportunità entrano dentro in team una volta entrati in team mantengono l'amministratore delegato Genish che avevano messo i francesi di Vivondi fino a ieri cioè ieri notizia che non trovate sui giornali ma è un po' adombrata da solo 24 ore il consiglio di amministrazione sfiducia di fatto l'amministratore delegato di Vivondi e in tutto questo qual è la partita che si sta giocando il fondo Elliot fa i cavoli suoi ma vuole sostanzialmente togliere la rete di Telecom che è come dire il suo scheletro quello che voleva tronchette tutti i modi tenere dentro insomma lo scheletro di Telecom lo vuole dare allo Stato e fonderlo con un altro scheletrino che lo Stato ha fatto che si chiama Open Fiber ovviamente tutti vi racconteranno che è un'operazione fantastica forse anche lo è per il paese ma è ovviamente la morte di Telecom perché la Telecom diventa come Tre diventa come Vodafone diventa come tutti questi quanti venditori di telefonia che non hanno la rete è un vecchio monopolista senza rete può anche andare bene ma così stanno le cose cioè tu toglierai la rete di cavi alla Telecom le darai una grande infrastruttura pubblica che sarà controllata dalla Cassa Depositi e Prestiti e da qualcun altro bene questa è la situazione che oggi si è venuto a creare in team con l'amministratore delegato della team esponente dei francesi che non vuole questa operazione bene spero di avervela spiegata perché sui giornali non è spiegata secondo me così chiaramente poi andiamo avanti sui temi della giornata team ve l'ho detto TAV ve l'ho detto beh insomma è stata licenziata la signora dell'IKEA vi ricorderete abbiamo fatto un casino pazzesco i giornali sulla signora dell'IKEA licenziata ingiustamente il giudice decide che quel licenziamento era effettivamente giusto non era un licenziamento illegittimo cosa mi diverte oggi leggere come il Corriere della Sera il giornale della borghesia finta borghesia perché rappresenta soltanto i giornalisti è una certa idea non so di Corso Venezia a Milano la borghesia è quella di piazza a Torino non quella che legge il Corriere della Sera quando io mi leggo il pezzo oggi della signora dell'IKEA licenziata dall'IKEA e confermata dal magistrato vedrete che il giornalista ti spiega tutto tranne per quale motivo aveva ragione l'IKEA e il magistrato a confermare il licenziamento c'è solo l'idea di questa donna che ha la sfortuna di avere due bambini di essere separata e che è stata licenziata perché non faceva il suo lavoro e soprattutto aveva mandato a quel paese tutti i vertici della sua azienda questa componente diciamo di colpevolezza della signora non è tenuta in considerazione dal pezzo del Corriere della Sera nonostante il pezzo sia giustificato dal fatto che il magistrato da ragione all'IKEA è il tipico caso del giornalismo italiano il quale oggi ci viene raccontato da Ferruccio De Bortoli sul foglio che dice così si devono fare le interviste bisogna fare non so cita due o tre interviste internazionali quando i giornalisti fanno le seconde domande incalzano i politici gli fanno un mazzo così bene ma tu De Bortoli cos'hai fatto fino ad oggi? no voglio sapere quando facevi il direttore della Corriere della Sera e questo è lo stile del Corriere della Sera e il Corriere della Sera di Monti il Corriere della Sera di Berlusconi sì me lo ricordo quanto incalzavate Berlusconi e i vostri amici e i vostri imprenditori e le vostre banche e i vostri finanziatori e Mediobanca l'azionista del Corriere della Sera e generali la trattavate così facendo la seconda domanda no no lo chiedo perché sono tutti bravi a fare lezioni così dovreste fare i giornalisti se io invecchiando dirò mai ovviamente nessuno mi intervisterà mai ma se farò una zuppa in cui dirò come devono fare i loro mestieri giornalisti cioè esattamente come oggi De Bortoli mi fa la lezioncina su come devono fare i giornalisti i loro mestieri sparatemi a vista a vista voi porro ma che sta a dire ci stai raccontando io non sono in grado di spiegare neanche come si fa un uovo sodo ma l'idea di poter spiegare ad altre persone come si fa il giornalista come oggi ho letto da De Bortoli che per vent'anni ha fatto trent'anni la cupola insieme a Medi del giornalismo italiano e soprattutto di quello economico cioè il giornalismo in cui non si riusciva a trovare uno scandalo un arrestato un privilegio niente beh va bene io dico chapeau alla grandezza di De Bortoli però forse un po' di umiltà nel dire ognuno fa il suo mestiere sta anche zitto nel raccontare gli ingredienti con quali cucina la torta da anni tra l'altro oggi la cosa veramente impressionante sui giornali è che Aftar tutta la questione di Palermo mi annoia mortalmente vedremo se riuscirà ad avere qualche soluzione Aftar è identico a Bomba 6 voi direte che grande notazione che fai io non sono De Bortoli io non so fare giornalista e non so fare interviste l'unica cosa che noto è che il generale Aftar libico è identico a Bomba 6 una copia questi scherzi della natura secondo me ogni tanto sono divertenti lettera di Renzi al Corriere della Sera pagina 20 in cui se la prende con Polito che aveva preso in giro Renzi perché aveva utilizzato secondo Polito la nipotina Down leggetevi la lettera di Renzi e per una volta starete con Renzi perché è una lettera piena di dignità piena anche di racconto e per una volta se la depurate da quella faccia saccente del Presidente dell'ex Presidente del Consiglio in fondo non potete che dargli ragione ultima vicenda è Asia Bibi in questo caso spiegata bene oggi dal foglio perché l'Inghilterra l'aperta Inghilterra la liberale Inghilterra ha paura se la fa sotto a prendere Asia Bibi contadina condannata alla morte da due tribunali pakistani e assolta dalla Corte Costituzionale perché per blasfemia va bene è stata condannata a morte e poi assolta ovviamente non può più vivere in Pakistan perché la vorrebbero uccisa morta in tutti i modi l'Inghilterra non gli dà l'asilo politico perché se la fa sotto se la fa sotto perché ha paura che le sue ambasciate abbiano delle ripercussioni in Pakistan e che ci siano dei musulmani il cui sindaco musulmano di Londra in questo caso si occupa dei cartelloni di Londra perché ci sono delle donne nude e dice il corpo delle donne ma non mi sembra che ancora abbia fatto un grande appello per la Londra aperta che possa accettare Asia Bibi sapete chi lo fa? quell'euroscettico orrendo che non piace a nessuno se non sottoscritto e a pochi altri che si chiama Boris Johnson il più euroscettico degli inglesi l'ex ministro degli esteri che oggi pagina intera al daily mail dice Asia Bibi venisse a Londra e chi se ne fotte e non possiamo veramente abbandonarci al rischio di violenze che poi se ci dovesse essere gli facciamo un mazzo così io sto con Boris Johnson sto con Asia Bibi chiaro? non con quei paesi che non riescono a difendere quei quattro cristiani che abbiamo in Oriente e che vengono trattati come se fossero dei criminali direi che per oggi è tutto vi do appuntamento più tardi come sempre col sito nicolaporro.it e se vi piace questa zuppa condividetela ciao anzi oh che siamo matti stasera c'è Matrix e ragazzi stasera c'è Matrix 23.30 parleremo di temi che sicuramente vi faranno stare incollati a Canali 5 ciao